Omicidio colposo di questo sono accusate sei persone tra vertici e funzionari rappresentanti di Sei Toscana per la morte di Giancarlo Andreoni. L'operatore ecologico dipendente di una cooperativa in appalto da Sei Toscana perse la vita lo scorso 26 ottobre perché il camion in manovra al compattatore di Camucia guidato dal collega lo travolse in pieno. Il magistrato che sta indagando su quanto accaduto Angela Masiello è motivata dai dubbi sulle condizioni di sicurezza per le manovre dei camion sull'area del compattatore sul rispetto dei protocolli antinfortunistici e sulle necessarie dotazioni dei camion. Tra gli indagati c'è anche Alfredo Rosini 44 anni direttore generale di Sei Toscana gli altri sono tutti residenti in provincia di Arezzo Marco Magnani 59 anni Michele Vignali 45 Gabriele Mecheri 45 anni Moreno Magrini 55 anni e Gianluca Bartolini 51 anni. Guillemali 5 anni e Gianluca